buongiorno ciao ciao buongiorno buongiorno ditemi vorrei vedere delle macchinine che tipo di macchinine vorresti vedere la lamborghini la lamborghini le lamborghini sono una macchina di lamborghini una lamborghini mi dispiace cinque minuti fa è venuto un bambino e ha preso le ultime due che c'era ne erano rimasti solo due un'altra macchina non ti andrebbe bene guarda lì ne abbiamo rosse gialle blu vuoi andare a vederle andiamo vieni ne ho una gialla o quella rossa lì ce n'è un'altra blu o questa qui questo vuoi vedere meglio da vicino questa ti piace non è bella come la lamborghini però questa la mettiamo dentro perfetto grazie mille buona serata arrivederci o questa qui tu volevi proprio la lamborghini davvero sì l'abbiamo trovato vieni con me vorresti salirci sopra l'abbiamo trovato vieni con me Grazie a tutti.